La scalata di Bitcoin si ferma sul livello di resistenza dei 52 sta un po' ovviamente rallentando ma ci mancherebbe dopo questo rialzo stellare che è avvenuto nell'arco di pochissimo tempo dal 22 di gennaio ai prezzi attuali più 36%. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video Bitcoin Monday analisi ciclica analisi tecnica e soprattutto la risposta a una domanda quella relativa all'alt season alla ricerca dell'alt season perduta quando arriva quando non arriva andremo a vedere tre grafici che sono esemplari per quanto riguarda la questione dell'alt season anche se uno di questi ve l'ho mostrato veramente tanto tanto tempo l'abbiamo seguito con la lente di grandimento sopra e anche l'altro l'abbiamo analizzato più volte però si sta andando a configurare una questione che voglio farvi vedere in questo video quindi prima analisi ciclica su Bitcoin per capire dove siamo nel breve periodo medio breve periodo poi andiamo a fare il punto della situazione sulla questione alt season alla ricerca dell'alt season sì alt season no quanto manca ci sarà non ci sarà e prima però di andare a fare tutto questo oggi c'è lo sponsor della giornata e non passate avanti perché non è uno sponsor vero beh bensì la trading on academy ragazzi oggi riapre per la prima volta dopo un anno la trading on academy e riapre con una specifico uno specifico obiettivo intanto solo 7 giorni di apertura a quella che è la nostra community operativa la community di trading la più ambita se possiamo dire insomma ma in questo caso diciamo neanche un po' vero e molto 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 sono molto contento di fare questa nuova apertura tra le altre cose 7 giorni con una super offerta di prezzo il trimestrale scende di 50 euro per chi si abbona solo ed esclusivamente con questa promo e c'è anche l'annuale che ce l'avete chiesto anche in tanti quindi ultimamente va di moda l'annuale e l'annuale in super sconto ragazzi quindi io vi lascio il link ovviamente in descrizione dell'academy e vi spiego un pochettino quello che stiamo facendo e come è cambiata un po' l'academy intanto quello che c'è dentro quello che trovate e sono analisi di natura operativa in academy facciamo analisi facciamo tante veramente analisi ora vi mostro un po' i contenuti ma soprattutto facciamo operatività di trading vera quindi andiamo ovviamente a operare su quelle che sono le strategie io ne seguo personalmente 3 più 1 diciamo così strategia holding strategia mensile strategia settimanale e le strategie un po' più brevi dove ho agganciato un sistema che sto testando insomma eccetera siccome non posso stare davanti ai grafici tutti i giorni allora io testo diciamo sistemi automatizzati eccetera ma non è finita qui perché in academy ci sono anche gli analisti nuovi abbiamo aperto infatti una serie di canali di categorie dedicate a quelli che sono altri analisti a parte me che possono scrivere all'interno della loro sezione pubblicare le loro analisi e fare tanti briefing tanti punti di vista anche diversi quindi abbiamo adesso la sezione che riguarda l'analisi ciclica quella che riguarda l'analisi della mia strategia ccti tra le altre cose spiegata nel corso basic 2.0 ma gestita Giovanni all'interno dell'academy e quindi che viene eseguita giornalmente abbiamo una nuova un nuovo canale che si occupa anche delle analisi di canna e anche un nuovo canale che si occupa degli airdrop che è un nuovo sistema in pratica con il quale si possono fare veramente tante cose interessanti e quindi è dedicato anche alla sezione degli airdrop non è finita qui eccola dal vivo vi faccio vedere proprio il discord come è strutturato ragazzi allora questa è una delle mie sezioni qui lateralmente a sinistra trovate le nuove sezioni ci sono veramente decine di canali veramente tanti abbiamo dato però la possibilità a tutti di personalizzare questa interfaccia andando a eliminare quelli che sono categorie che non vogliono vedere per non creare confusione e quindi se non interessano a un determinato argomento possono personalizzare e la categoria scompare e poi la possono riattivare quando vogliono ci sono appunto tutti gli analisti le live eh trading chat quelle che riguardano appunto le tutte le sezioni di trading questa vi mostro la mia ragazzi quella che riguarda eh la mia sezione dove pubblico eh tutti i video youtube le analisi che sono esclusive quelle tutte per l'academy eh tutte le mie operazioni di trading le tabelle quello che bisogna fare le analisi la parte proprio operativa questa è stata l'ultima operazione chiusa con un sistema su bitcoin dopo questa impennata il nuovo portafoglio delle criptovalute che stiamo andando a costruire eh per l'altitolo ora ne parliamo tutte le chat dove parliamo esclusivamente insomma di tutte quelle che riguardano eh le mie eh analisi eccetera allora ragazzi allora questa è l'academy tra le altre cose poi ci sono una serie anche di servizi riguardo eh quelli che sono i bot abbiamo diversi bot ora vi mostro anche dei risultati anzi ve li faccio vedere abbiamo diversi bot alcuni sono in test per l'autopazione completa altri eh li sto eh utilizzando invece come braccio bionico in pratica noi li utilizziamo quando abbiamo necessità di sapere quando c'è un ingresso e quando c'è un'uscita e li deleghiamo a una macchina in questo modo abbiamo la possibilità di non dover stare davanti al grafico di dormire più sonni tranquilli eccetera questa funzione è eh in sostanza eh anche questa in beta però verrà rilasciata a brevissimo perché abbiamo già testato per tre mesi ci sono infatti dei tool operativi che rendono anche i trailing stop possibili a tutti gli iscritti della dell'academy con delle sezioni apposite ancora non sono liberi a tutti ma solo a una lista che si è iscritta per fare questo beta test ma funziona abbastanza bene quindi la libereremo a tra poco vi faccio vedere però per esempio quelli che sono alcuni alcuni dati allora questo ragazzi è l'andamento dal 2021 di uno dei miei sistemi quello holding che noi utilizziamo in academy eh su bitcoin a dire la verità il sistema che abbiamo utilizzato ha performato meglio di quello che vedete qui perché io poi ci ho messo la mia manina lo zampino per fare un po' degli ingressi migliorativi e qualcosina l'abbiamo migliorata però in linea di massima giusto per farvi comprendere questo è lo stesso periodo storico dove bitcoin ha fatto questo andamento qui che vedete quindi questi sistemi sono creati per ridurre la volatilità non per guadagnare il doppio e sono delle cose ovviamente per grandi anche investitori persone che vogliono gestire tutto in maniera abbastanza adeguata diciamo non scommettere eccetera questo invece per esempio è l'equity curve di un nuovo sistema che lo sto condividendo da un po' è in test questo sistema perché non mi convince su alcuni punti di vista però eh tutta questa zona che vedete l'abbiamo fatta eh anche lì e questo è quasi un intraday non è un intraday ma due tre giorni massimo ecco questo ragione in questo modo ed è interessante questa cosa allora in academy trovate tutte queste cose ma c'è un ma ragazzi se non siete preparati se non avete formazione non avete studiato l'academy non fa per voi perché non è una community basic è una community advanced perciò dovete essere preparati se entrate in academy dovete conoscere già l'analisi ciclica già l'analisi tecnica sapere che cos'è un trading plan come si gestisce un trading plan quindi dovete avere una formazione adeguata altrimenti non entrate ragazzi perché eh non va bene per voi dovete iniziare dal corso basic altrimenti arrivate là non capite una parola di quello che c'è scritto e poi eh insomma mi dispiace insomma quindi non non andate a utilizzare diciamo i vostri soldi per cose che non servono in quel caso quindi mi raccomando questa cosa è invece adattissima che ha una formazione già abbastanza alta e soprattutto vuole una community operativa che vuole fare le cose in un certo modo eliminare la confusione come sempre far chiarezza su tante analisi e soprattutto l'unione fa la forza e questa è l'unione della nostra community e siamo qui da cinque passa anni all'interno ci sono trader che sono con me addirittura dalla veramente 2018 e insomma alcuni di loro hanno svoltato la loro vita veramente non come i fuffa guru che lo dicono quindi sono molto contento di queste cose ma non ovviamente solo per l'academy anche per le loro capacità chiaramente ragazzi però è bello condividere queste cose insieme ad altre persone e soprattutto è bello creare uno spazio di condivisione tra l'altro eh questa aggiunta che abbiamo fatto delle categorie dei nuovi analisti mi piace tanto proprio perché eh lascia la parola anche ad altri e quindi confrontiamo le mie analisi con quelle degli altri ma poi c'è Dulcis in fundo in questa settimana verrà lanciato il token dell'academy con gli NFT con delle funzioni esclusive proprio per gli iscritti che saranno stra fighe e sono contentissimo detto questo apertura una sola settimana una volta all'anno lo apriamo ragazzi quindi mi raccomando eh non vi fate scappare l'occasione se volevate entrare passiamo sull'analisi eh di eh bitcoin per quanto riguarda ora mi sono perso il grafico eccolo qui l'analisi eh ciclica di bitcoin eh allora ragazzi partiamo da questa struttura per il bitcoin monday dal minimo del ventidue di gennaio iniziato al cento per cento un ciclo mensile ovviamente ma anche un ciclo trimestrale tra le altre cose c'è un po' il dubbio effettivamente se su questo minimo possa essersi chiuso anche il ciclo annuale di bitcoin è un po' anomalo la forma che bitcoin sta assumendo che la struttura ciclica di bitcoin sta assumendo in questa fase c'è da dire che io ho tirato questa linea che vedete ormai vi svelo tutte le carte tanto noi in academy insomma questa roba la la stiamo seguendo da sei mesi però ormai siamo siamo arrivati in dirittura d'arrivo eh vi svelo un po' tutte le carte ecco come si suol dire allora 490 giorni l'attesa del ciclo annuale di bitcoin potrebbe ancora avere spazio fino a marzo di chiudere se così fosse cioè se il ciclo di bitcoin annuale sarebbe identico ai cicli precedenti anche questo ribassista per intenderci che è iniziato qui ed ha chiuso qui eh ed era molto lungo a forma di natura ternaria se così fosse e non siamo in un ciclo anomalo questa zona potrebbe essere una zona di top per quanto riguarda bitcoin di medio periodo perché poi dovrebbe andare a chiudere una struttura annuale così eh e da qui iniziare il nuovo annuale questa sarebbe la chiave di volta perché andrebbe poi a innescare una pump rialzista. ora io questa view la tengo ancora aperta esiste ancora siamo ancora nei tempi manca un mese è una ribasso di un mese per un mercato come bitcoin è consistente può essere consistente il meno venti lo può fare con tranquillità però c'è da dire che è anche stato troppo forte in questa fase quindi eh secondo me è anche giusto andare a ragionare su altri tipi di views cioè la possibilità in sostanza che in questa zona dal minimo del 12 di settembre quando era 11 di settembre si è iniziato una struttura ciclica completamente nuova e definibile come un annuale corto che quindi si sta sviluppando in questo modo e che in pratica avrebbe tutta ancora una zona per fare nuovi massimi eh eh prima di andare in chiusura in questo modo. in pratica è la stessa forma che ha avuto in questa fase se andate a guardare anche il grafico o era meno impattante però il massimo reale l'ha fatto nell'ultimo ciclo trimestrale lungo che è questa zona qui. ora in pratica se fosse stata se fosse diciamo una cosa del genere eh qui avremmo chiuso un sottociclo quasi un semestrale quindi un trimestrale lungo semestrale corto da centotrentatré giorni che indicherebbe una metà e in pratica qui avremmo poi un'altra struttura da centotrentatré giorni eh che eh ci porterebbe in eh zona maggio giugno quindi in pratica per andare a fare la chiusura. in sostanza eh prima di vedere dei sottocicli eh andarsi a sviluppare io non prendo nessuna di queste posizioni. Non mi interessa più di tanto perché i miei sistemi automatici quelli che vi ho fatto vedere stanno tradando questa situazione in maniera egregia abbastanza bene eh il sistema holding soprattutto che è quello che gestisce le posizioni quelle più insomma no? di 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 old quindi quelle più lunghe eh è long da 42 43 in questa ultima gambetta è rientrato alla perfezione in questa zona qui la zona giusta quella dove doveva entrare appunto e e quindi fino a quando non esce io sto lì insomma bello tranquillo. ovviamente se inizia a uscire quel sistema ehm un po' il dubbio inizia a venire soprattutto se vediamo un'inversione di trend a breve in questa zona qui una cosa del genere per intenderci. se vediamo una roba del genere allora l'ipotesi della chiusura del ciclo annuale potrebbe tranquillamente avvenire. Perché vi ho fatto vedere questa eh inversione costruita in questo modo? Perché in realtà dalla minimo eh del 22 di 24 di gennaio abbiamo un nuovo ciclo mensile al 100% e questo ciclo mensile se è regolare se è formato quindi intorno ai 30-35 giorni teoricamente va in chiusura alla fine di questa settimana cioè domenica prossima questa domenica che viene o lunedì prossimo cioè in sostanza noi qui avremmo fatto il massimo eh e da qui dovremmo andare in chiusura massimo che sarebbe anche indicato dalla possibilità eh di che questa shadow abbia fatto il massimo in realtà cioè la giornata di giovedì scorso. oggi è lunedì ed è anche vero che siamo fermi allo stesso livello di pricing ma è anche vero che il massimo l'ha fatto quasi una settimana fa quasi una settimana fa ma anche qualche giorno. Ciò significa che teoricamente sta iniziando a respirare ci sta è tutto normale per una posizione di medio lungo periodo una cosa del genere è vantaggiosa. ora vi faccio vedere però la questione dell'outseason che secondo me va messa sotto controllo una cosetta eh e mh e insomma ragazzi a me non dispiace una cosa del genere dico francamente. Certo è che per esempio già la rottura del livello di minimo che aveva fatto nella giornata di 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 sabato che ha fatto questo sciacquone eh da solo a 50.000 6 e 47 diviene un po' particolare. Certo questo è anche sabato quindi andrebbe vista in insomma tanto e non quanto ragazzi però eh ci sta e lo dobbiamo considerare. Ora il fatto che sia fermo in questa zona e ci stia un po' ci sta però al momento inversioni sul prezzo non ne abbiamo abbiamo un massimo in questa zona un minimo registrato ecco vi metto insomma per farvi vedere senza lasciato per farvi capire che non c'è niente qui. Questa è una congestione su un livello di resistenza allora monitorare è corretto per esempio già andiamo a guardare una chiusura giornaliera al di sotto di 51.000 e 6 prezzi bit stamp comunque in generale indicherebbe ecco una cosa del genere indicherebbe che qui è avvenuto una in mini inversione di trend che potrebbe in effetti innescare poi magari la chiusura del mensile. Se chiude il mensile da questo mensile in poi inizieremo ad avere tante risposte anche quella questione che vi ho detto prima cioè tra una settimana perché se il mensile che riparte qui è forte fa nuovi massimi io poi escluderei magari o darei poca probabilità alla questione di un annuale in chiusura a marzo perché non ci sarebbero forse i tempi tecnici e mi sembrerebbe di vedere bitcoin molto forte. Certo è che bisogna andare con le pinze con i mercati delle cripto perché basta un nulla a volte abbiamo chiuso degli annuali in maniera veramente repentina con tre giorni di ribassi importanti per magari shock di pricing e cose assurde. Però in linea di massima andiamo a valutare questa cosa quindi attesa ciclo mensile forse in chiusura questa settimana si guardiamo quelle che sono i livelli tecnici soprattutto i 51.600 e se i fatti in close della giornata attenzione a questo massimo perché se qui andiamo in chiusura mensile la probabilità che ha fatto il massimo c'è. Poi che sia un disastro no magari scendiamo a 50 51 e dopo di che riparte ci importa poco però giusto per farvi capire quello che potremmo a cui potremmo assistere questa settimana. Andiamo a vedere e rispondere alla domanda si sono si anzi sono no quali sono i grafici che vi avevamo promesso partiamo da uno quello più figo quello più leggero perché qui stiamo arrivando da un grafico da un video importante quello leggero. Ragazzi questo è il google trend per quanto riguarda bitcoin e le cripto dalla 2019 ed è esemplare ed evidente una cosa quando si parla di burran bitcoin siamo in pomo in tutte quelle roba lì io vi rispondo sempre non c'è mai stata nessuna pomo. In pratica se io dovessi paragonare l'attuale situazione rispetto al passato guardando solo questo grafico potrei dirvi tranquillamente che siamo in questa zona qui. Cioè siamo al 2019 in pratica è anche evidente questa cosa poi che c'è stato qui c'è stata una fase di pausa un leggero recupero ma la vera burran è partita solo dopo circa un anno e mezzo in pratica da questa zona qui è iniziata la vera burran. Quindi quando si va in pomo si crea una roba del genere anche questa quella delle cripto che è avvenuta un po' dopo e guardate qui quanto è rimasto bitcoin poi da lì siamo solo scesi in pratica fino alle zone di minimo quindi in questa fase qui. Poi nell'ultimo anno qualcosina si è mossa infatti abbiamo una ripresa anche della parte di trend su bitcoin e qualcosina è avvenuta anche nelle altcoin che infatti questa lineetta rossa si sono iniziati a muovere in maniera discretuccia ma l'add season è questa roba qui ragazzi questa roba qui è l'add season queste cose così e non sono avvenute. Quindi anche un grafico di trend di questo tipo ci dice che nel mercato delle criptovalute al momento non c'è nessuno non c'è nessuno tranne quelli che ce l'avamo prima qualcuno che è diventato diciamo più intelligente se oserei dirlo e ci sono poi gli istituzionali che fanno shopping ma non ci sono i retail non c'è quella pomo non ci sono i youtuber della domenica che si inventano video sulle cripto perché sono inventati la meme coin della giornata. Quindi non esiste ancora quella cosa lì non c'è l'interesse generalizzato per questo mercato ed è un bene per tutti se sei qui in questo momento non sei tu il retail a cui butteranno addosso tutte le cripto una volta che sono salite dove dovevano andare e per poi magari fare il sell profit degli etf eccetera. Questa è una fase accumulatoria una fase iniziale una fase di boom sì di cui non si è accorto nessuno abbiamo visto prezzi di bitcoin stellari quasi molto meglio insomma degli altri anni e vi ho spiegato anche perché quando ho parlato della questione degli etf come modificano la struttura di mercato gli etf. e la stanno facendo in maniera importante poi non è che può durare all'infinito questo rialzo così no si per me farà gli alti e bassi però in linea di massima siamo messi abbastanza bene rispetto agli altri anni ma non c'è pomo quindi l'alt season in questo momento c'è e non c'è. Però se andiamo a guardare il grafico che vi faccio vedere da un po' di tempo cioè la total market cap meno bitcoin ethereum e meno le stable coin che riguarda appunto solo le cripto questo il grafico che praticamente ho costruito circa sei mesi fa anche di più forse che stiamo guardando da quasi un annetto. Allora questo grafico qui indica che dalla rottura di questo livello come se vi ricordate vi avevo accennato a questa cosa dicembre 2023 è iniziata la fase di bull run per quanto riguarda anche le criptovalute ma non siamo in una fase di pomo e quindi alt season che poi si configura come una roba a spirale rialzista del genere. C'è da dire che è un po' di maturità anche nel settore delle criptovalute che si costruisce proprio attraverso questi rialzi un po' più bilanciati non mi dispiace devo essere sincero in questa fase lo so magari molti di voi vorrebano vedere questi pump giganteschi io preferisco vedere delle cose che sono un po' più lineari e un po' più logiche e un po' più durature nel tempo e meno volatili che poi spazzano via insomma chi non ha informazione chi non sa quello che sta facendo e perde tutto come è stato già le altre volte quindi preferisco insomma vedere qualcosa che dia il tempo anche alle persone di formarsi di gestire appunto quelle che sono le posizioni studiare quelle che sono le operatività le strategie che devono essere applicate in questi mercati cosa sono i progetti cosa fanno quelle criptovalute insomma è carino se si fanno cose del genere. Allora questa struttura ha una fase di resistenza a 494 billion ora siamo a 415 billion ragazzi qui eravamo quando abbiamo fatto il breakout a 300 billion quindi abbiamo aggiunto 100 miliardi di capitalizzazione questa non è una season ma non è neanche un mercato che sta a guardare semplicemente che le criptovalute in questo momento non corrono tutte insieme corrono un po' le migliori e questo è il discorso solo alcuni tipologie di progetti e questo è importante da andare a guardare c'è un altro grafico che devo farvi vedere tra pochissimo non andate via un minutino allora questa zona qui quindi dobbiamo tenere una stretta considerazione ora anche su questo grafico c'è la questione legata al ciclo ai vari cicli allora qui abbiamo avuto una struttura un po' particolare cioè delle strutture di cicli che si sono strutturati a 160 giorni per esempio questo qui attenzione che non sono giorni precisi perché sono delle settimane quindi questa era 231 però in realtà questa zona è una zona che può appartenere sia al precedente ciclo che al nuovo perché in realtà è una lingua di buyer di una chiusura di un ciclo precedente quindi sì e no che insomma sia uno più lungo non più breve cambia poco ma questa è una forma che in pratica si configura in questo modo come se qui fosse stata creata una cosa del genere sembra essere iniziata all'ultima struttura ciclica ora la questione di fondo è cercare di comprendere da questo grafico se le altcoin qui possono aver chiuso un ciclo annuale oppure anche loro devono andare a chiudere un ciclo annuale intorno ad aprile di questo mese e di questo anno quindi la questione cos'è è che se qui devono chiudere un ciclo annuale da qui non ci piove andiamo a scendere in questo modo però 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 se dovesse venire una cosa del genere questo potrebbe essere un best point per un best buy quindi un bellissimo punto di ingresso se lo fanno vediamo che cosa succede siamo un po' in attesa c'è un piano d'accumulo strutturato ovviamente non come piano d'accumulo di lungo periodo una cosa creata per entrare con un portafoglio che stiamo gestendo in academy da novembre scorso ben posizionato si sta posizionando bene quindi continueremo a fare quella cosa lì andiamo a vedere l'ultimo grafico di oggi che è un grafico di cui abbiamo parlato veramente tanto spesso ed è il grafico di Ethereum contro Bitcoin perché c'è un movimento interessante che è avvenuto nella scorsa settimana cioè il recupero leggero di un livello mediano di questa zona niente inversioni niente di niente al momento però però una cosetta c'è allora qui potrebbe essere intanto qui sicuramente iniziato su questo livello di minimo che dovrebbe essere 0,049,5 questa zona invece è 0,047 quindi questo è il punto di minimo del daily perché qui ho messo il daily in pratica è iniziato al 100% un nuovo ciclo trimestrale quindi almeno 70-80 giorni questo ciclo trimestrale ha fatto un massimo nella prima parte che teoricamente configura di solito l'avvenimento di un ciclo ribassista questo significherebbe teoricamente che Ethereum ha dato e poi da qui continua a perdere forza relativa su Bitcoin però c'è da monitorare questo segnale questo segnale qui cioè il segnale del superamento di questo livello di pricing perché dà un ingresso teoricamente se rompe conferma una close al di sopra di questa zona sopra di 0,056 perché se lo fa e rompe confermandola in close dà un segnale di ingresso per il tentativo di ritornare sopra questo canale discendente e perché bisogna farlo prima l'ingresso perché se arriva qui e poi brecca fa un'impennata quindi fa un'accelerazione Ethereum contro Bitcoin ora secondo me una cosa del genere è possibile solo e solo se non andiamo in chiusura annuale delle cripto di Bitcoin, Ethereum e Company se invece siamo e andiamo in chiusura dell'annuale tra un mesetto questa cosa qui non può avvenire è ovviamente l'altura del canale ribassista e probabilmente ci sarà una continuazione della forza relativa di Ethereum contro Bitcoin che perderà quindi cosa significa? Significa che queste settimane sono anche chiave per comprendere la logica dell'up season perché se siamo in un annuale che deve chiudere l'up season da qui al prossimo mese e mezzo non se ne vede niente ragazzi se invece siamo in un annuale che ha già chiuso a settembre è iniziato un annuale anomalo di cui poi parleremo quando e se sarà confermata questa cosa allora l'up season potrebbe avvenire a momenti potrebbe iniziare non avvenire potrebbe iniziare una fase a momenti perché sarebbe guidata proprio da Ethereum ma Ethereum ha tanti scogli davanti primo deve superare questa zona dopodiché deve superare questa zona e poi c'è l'ultimo livello di resistenza contro Bitcoin una cosa del genere è comunque abbastanza insomma importante se fa una roba del genere allora dà un segnale di inversione di trend di medio periodo e questo è significativo perché di solito le altcoin poi seguono Ethereum quindi interessante questa fase però ancora non ha mosso grandi movimenti cioè non ha fatto grandi movimenti ETH rispetto a Bitcoin però va monitorato perché può essere che poi si muove nell'arco di una o due settimane e aziona questi tasselli segnateli, fate save, rivedete questa parte del video e fra un paio di settimane poi ne riparliamo una o due settimane ne riparliamo va bene per oggi è tutto buon inizio settimana scusate il video è lungo vi ricordo l'Academy in promo aperta per sette giorni e c'è anche l'abbonamento annuale iper scontato non ve lo fate scappare anche perché gli sconti sono lifetime fino a quando lasciate aperto l'abbonamento restano sempre scontati ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti